Anche quest'anno proponiamo come tutti gli anni questi mercatini di Natale, un evento ormai diventato storico e caratterizzato anche a livello nazionale perché abbiamo la partecipazione di innumerevoli committive da tutte le regioni d'Italia. Ricordo che Monbaroccio è nato grazie al primo mercatino quasi 25 anni fa, quest'anno è la 24esima edizione, grazie alla parrocchia di Monbaroccio che ha intrapreso il percorso all'interno del chiostro comunale in centro storico per poi integrare la piazza, per poi integrare tutto il borgo. Si è creata una sinergia con questi mercatini, con questo percorso che abbiamo attuato grazie al volontariato, grazie alle attività economiche che ci permette di vivere in maniera responsabile e congiunta quella che è una promozione culturale e sociale del nostro borgo e di tutto il comune perché insieme riusciamo a fare squadra, insieme riusciamo a valorizzare quelle che sono le peculiarità di un territorio bellissimo come quello che ho l'onore di rappresentare. Per tanto le attività economiche, il volontariato, i servizi sociali, l'amministrazione comunale, la proloco, protezione civile, le forze dell'ordine tutti insieme affinché si possa realizzare quello che è l'obiettivo primario, valorizzare il nostro borgo, valorizzarne la cultura ed essere ospitali per quei 20.000 turisti che speriamo che anche quest'anno ci vengano a trovare perché sono numeri importanti per una realtà piccola come quella che è Monbaroccio e che comunque diventa un valore aggiunto anche per la provincia. È collaudato il percorso di viabilità con spazi dedicati sul Beato Sante, in particolar modo per l'area di parcheggio e lungo le strade provinciali SP32 e SP80 che permettono ad Anello di raggiungere con facilità il borgo grazie ai servizi navetta. Abbiamo una novità importante che sono la realizzazione di nuove casette per gli espositori per cui andremo ad allestire quello che è il centro del borgo con degli elementi ancora più particolari e caratterizzanti. Le iniziative, le attività sono un po' riproposte quelle degli anni precedenti con alcune integrazioni e quelle degli anni precedenti le abbiamo mantenute proprio perché abbiamo trovato sempre comunque un ottimo riscontro e un'ottima partecipazione e attività. L'ispirazione sono i villaggi in miniatura della LEMAX, sono all'interno del Palazzo del Monte, quindi lo stesso palazzo naturalmente a voce per tutto il paese e quindi sono questi villaggi in miniatura con carillon, con musiche tipiche di Natale e con vari personaggi. La casa dei pinguini e quindi bambini affascinati e entusiasti di questi animali, quindi cerbiatti, volpi, ricci, tutti animali del bosco, il forno, il vecchio fornaio degli anni 50 di Monbaroccio, il signor Pipi, il soprannome detto proprio, quindi mi piaceva proprio recuperare questi spazi e queste tradizioni che il borgo non può fare a meno. Ma questa non amica da noi non mancherà mai perché comunque abbiamo la forza di avere la componente dell'associazione della festa della Tagliatella che collabora con la Proloco di Monbaroccio, nonché dai ragazzi di Montegiano della festa della Crescia Saicocon, quindi l'evento che si traduce nella località di Montegiano Maggio viene riportato all'interno del borgo e quindi tutte le associazioni del territorio, in particolare anche quelle culinarie, diventano parte integrante di queste nostre eccellenze.